I personaggi della domenica calcistica sono tre. In prima fila mettiamo proprio Simone Bramante. La sua rete è segnata da 25 metri. Nel finale ha permesso all'Arezzo di battere il Seravizza e consolidare il primo posto in classifica. È arrivata al momento giusto una rete che il giocatore si è preparato con grande sagacia. In certe situazioni il tiro da fuori è fondamentale. Al secondo posto sale di prepotenza Elio Calderini. Il fantasista di Città di Castello, ex Arezzo, è stato l'autentico mattatore della partita giocata e vinta dai tifernati a Fiumicino con l'Ostia. Due assist, il secondo da fare vedere nelle scuole calcio e un gol. Non aveva avuto un approccio buono con la nuova realtà. Forse non aveva smaltito la delusione della bocciatura di Arezzo ma quello di Fiumicino è stato il Calderini che tutti conosciamo. Chiusura per Andrea Giusti, il portiere del Montevarchi che al 97esimo ha parato il calcio di rigore regalando la vittoria alla sua squadra contro la Cararese. Un rigore che più la vedi e più non credi ai tuoi occhi. Un fedelissimo di Malotti. All'inizio della stagione era rimasto senza squadra, poi l'allenatore dopo aver saggiato i nuovi lo ha richiamato. Abbiamo l'impressione che resterà fino al termine della stagione.